Il cuore di una donna solitaria ha tre semplici regole. Una donna solitaria è una donna con cui a volte è difficile stare, ma per renderti felice darebbe tutta se stessa senza pensarci due volte. Vedi, è il contrario di un uomo. Una donna non ti sfiora mai per errore o distrazione, quindi se ti scegli ha un buon motivo, cerca solo di non farglielo mai dimenticare, perché è come ci insegna la protagonista di questo libro. L'amore di una donna solitaria è il più sincero che ci possa essere, perché ti ama per scelta e non per bisogno di compagnia. Se vede felice le persone a cui tiene, è felice anche lei. E come ci insegna questo libro, il suo cuore ha tre semplici regole. Non usarla, non mentirle. Se sei stanco di lei, diglielo subito. È tutto qui, tra queste pagine. Grazie a tutti. Grazie a tutti.